God Save the Wine, siamo qui con quei due che appunto vi ripresento un'altra volta Alessandro Fagioli, Martina Berti Si presenta da sola eh Martina Prego, a quei due che l'altra volta anche le etichette giusto non c'erano, non lo sbaglio E quindi ecco, questo invece è l'anteprima o comunque una volta God Save the Wine, nuova etichetta Un'etichetta estiva, invernale o l'etichetta che vi rappresenta? Eh, sono etichette sicuramente giocose per quanto riguarda i nostri prodotti sul vino bianco e sul Chianti Mentre un'etichetta un pochino più di design per quello che riguarda invece l'EGT vendemmia 2016 I nostri prodotti nascono con dei progetti di partenza ben definiti Quindi partiamo da un Chianti che ha delle caratteristiche di giovinezza Stato mi faccio versare qualcosa da Martina eh? No dimmi te, il Chianti Stiamo parlando del vino dell'estate e io partirei Ok, ecco, basta abbastanza tanto, è giusto per provarlo Quindi questo potrebbe essere un vino per quest'estate? Questo è un vino sicuramente, nonostante la sua struttura abbastanza importante Nonostante sia una vendemmia 2017 Una bella protondità, non è nervoso ma a volte le ultime vendemie Abbiamo lavorato tantissimo in cantina, abbiamo la fortuna di avere un prodotto di partenza ottimo Il Sangiovese proviene da vigneti che hanno oltre 50 anni perché sono stati impiantati negli anni 60 Mentre i blend di Merlot e Canaiolo si avvicinano ai 20 anni Quindi è stato fatto poi una lavorazione di 40% della massa in tonno di media tossatura piuttosto usati Quindi per non dargli un'impronta molto forte Il 60% invece ha fatto acciaio Comunque già così è veramente un bel mix di freschezza, complessità E ha anche bevuto stasera, insomma una serata che inizia calda Direi un vino che è veramente dalla scossa, dalla sveglia Sì, senza ombra di dubbio Il resto della massa farà riserva perché le caratteristiche di fondo hanno dato degli ottimi risultati Quindi sarà un vino che potrà avere una storia anche più lunga Oltre che fermarsi al 2017 in bottiglia Ecco, e visto che siete nuovi, la gente è curiosa Dove vi veniamo a trovare quest'estate? Facciamo una passeggiatina? Ginessa Fiorentina, la Cantina, la Strassigna I vigneti invece sono, siccome sono separati dal fiume Pesa Comune di Montesperto, lì sono la trapadre del fiume Quindi diciamo attraversiamo un ponte per fare il vino Al di là del ponte Grazie mille, complimenti, buona estate Buona serata e grazie a voi